ecco qua grazie ciao cara buona giornata ciao ciao buongiorno maria ciao cara ciao ciao buongiorno buongiorno ti mando la lista di quello che mi serve poi vengo a prenderla luna va bene perfetto non c'è problema ciao buona giornata grazie buona giornata ciao t'aspetto dopo buongiorno oh saccomani qua le sto accendendo le luci perché ho appena aperto ma non c'è problema signora sa indicarmi come arrivare al museo delle ceramiche certo lei esce da di qui arriva al primo incrocio poi gira a destra sempre dritto se lo trova davanti d'accordo grazie allora gentilissimo è carina vero molto sono belline queste devi fare un regalo per il mio fratellino piccolo però guarda questa qui è un po più grande possono uguali te la faccio vedere molto bellina ok buongiorno no 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 ma c'era un fila hai visto? grazie prego un altro prego una fila prego